23 febbraio 2021. Pam Taylor condivide la foto di un enorme insetto su Facebook, dopo averlo visto appollaiato sul lato di un albero, mentre camminava in una zona boschiva. In molti hanno visto l'enorme stazza della falena, subito pensando si trattasse di una falena gigante, persino mutata. Ma non in molti conoscono questa particolare falena, comune nelle zone costiere dell'Australia, in particolar modo a Brisbane. Il giorno successivo, il 24 febbraio, tornò a vedere se la falena fosse rimasta lì, dato il temporale della notte passata. Con sua sorpresa non ne ritrovò soltanto una, bensì due. Scherzosamente sui social hanno chiamato la falena Behemoth, vista l'assonanza ed il gioco di parole particolare. Nulla di naturale o timutato, ma una fantastica falena di legno, in grado di avere un'apertura alare fino a 10 pollici e in grado di crescere fino a 15 cm di lunghezza. La falena più pesante, e al momento la più grande, al mondo.